buongiorno a tutti ben ritrovati dell'associazione di progettamento del ticino consapevolezza condivisione e cooperazione di progetti e avremo come il nostro gradito ospite Massimo Perez ma approfitto anche per darvi il nostro prossimo appuntamento che sarà per domani con una relazione dovemo avere una notte con il webinar dal tutto il medaglio dei sottocriteri come veritare l'unica attività di un'iniziativa a questo punto c'è direttamente la parola Massimo a tutti voi auguro un bel ascolto vi dico anche che vi verranno abilitati direttamente tutti i microfoni certamente saranno spenti all'inizio nel momento in cui dovesse terminare il webinar Massimo adesso la possibilità compatibilmente col tempo di poter intervenire dovete solamente abilitare il vostro microfoni a questo punto vi auguro a tutti voi un bel edile e un bel edile anche Massimo con la sua relazione arrivederci al posto la nota grazie, grazie Antonio grazie a tutti voi per la partecipazione io sono l'ingegnere Massimo Pirozzi sono il project manager, consulente, formatore master sono ricercatore e autore internazionale in particolare per quanto riguarda il fenomeno della gestione delle relazioni con gli stakeholder e una parte diciamo di gestione delle relazioni certamente anche oggi insieme quindi ci concentriamo un po' su quelli che sono gli argomenti che portano alla generazione del valore nel progetto e questo diciamo quindi consapevolezza, condivisione, cooperazione passa con il supporto assolutamente necessario della leadership e della comunicazione e vedremo anche una parte di quelle che sono le nuove tendenze allora, gli argomenti di oggi quindi cominceremo con la catena del valore delle relazioni con gli stakeholder le relazioni con gli stakeholder generano valore ed esamineremo la catena del valore che li riguarda per poi affrontare il problema della padronanza personale diciamo, in traduzione, quella che è la personal mastery e anche come questa sia la base dell'intelligenza emotiva che certamente diciamo molti e molti di voi conoscono insisteremo su questo aspetto perché a volte si pensa che sia possibile fare un percorso di miglioramento delle relazioni con gli altri senza fare un percorso di miglioramento su se stessi e non è invece così cioè c'è sempre alla base un percorso di miglioramento personale vedremo quelli che sono i sei stili di leadership che il project manager deve sapere impiegare a seconda delle situazioni cioè quindi con un approccio estremamente pragmatico scenderemo molto molto coi piedi per terra e diremo a seconda delle situazioni ci sono sei stili di leadership da poter utilizzare ognuno naturalmente ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi e quindi possono essere applicati a seconda dei diversi momenti o dei diversi casi poi parleremo di teaming di team building e di teamwork teaming ha il significato di solito di lavorare insieme team building è il processo di formazione del team che ha una sua tutta una sua particolarità e teamwork infine è il processo di lavorare bene diciamo insieme per poi vedere quelle nuove tendenze in termini di leadership la followership che è una specie di diciamo leadership distribuita e la stewardship che è un nuovissimo concetto che sta introducendo il project management institute nella prossima PMBOK guide e il prossimo American National Standard faremo anche un piccolo focus sull'etica nelle relazioni con gli stakeholder che è di particolare attualità diciamo in questo momento e poi una breve sintesi con la gestione efficace delle relazioni allora cominciamo dall'inquadramento dei progetti progetti diciamo requisiti e aspettative il primo concetto fondamentale è che le organizzazioni attualmente stabiliscono le strategie basate sulle loro mission sulle loro vision i progetti sono dei mezzi innovativi operativi innovativi per realizzare obiettivi strategici complessi e quindi raggiungere attraverso i loro risultati i benefici attesi quindi i progetti hanno senso per raggiungere dei benefici che a loro volta sono figli di un obiettivo strategico quindi sia da una parte non c'è nulla di più operativo dei progetti però dall'altra diciamo dobbiamo avere ben presente che i progetti sono visti come strumenti per realizzare degli obiettivi strategici e quindi anche più alti diciamo della stretta operatività in termini diciamo del cerco di vita dell'investimento le strategie vengono di solito declinate in opportunità anche minacce naturalmente e questo diciamo questo è in business case che generano delle aspettative diciamo tutto questo è un valore di investimento che a questo punto diciamo fa partire il nostro progetto che di solito comincia in una forma contattualizzata con uno scopo dei requisiti diciamo degli obiettivi ed anche dei vincoli nel tipo vincolo tempi costi qualità ma anche vincoli normativi legislativi e quant'altro per produrre dei deliverable i deliverable sono certamente il risultato di una realizzazione ma anche hanno il significato di un qualcosa che viene scambiato viene scambiato con diciamo un cliente utente che è poi quello che prende in carica il ciclo di vita del prodotto o servizio e quindi i risultati una loro combinazione che chiamiamo output quelli che sono invece gli outcome di progetto oggi si definiscono outcome diciamo quei particolari output che generano un cambiamento e quindi diciamo potenzialmente quelli che sono i benefici attesi quindi un valore investito viene porta a un progetto il progetto genera un valore che poi diciamo si trasforma in valore di business o sociale a seconda dei casi allora i progetti sono specifici perché sono unici ripetibili e quindi vanno affrontati in modo specifico questo naturalmente come ben sappiamo richiedono delle strutture organizzative specifiche non è che si prende la struttura pari pari del diciamo dell'organizzazione e la si applica al progetto di solito questo è molto costoso perché si fanno anche delle cose non strettamente necessarie così come è richiesto un approccio specifico non una procedura organizzativa aziendale o quant'altro perché la procedura va bene per tutti i casi mentre invece noi siamo specifici quindi ogni progetto richiede il suo approccio il suo approccio in termini di project management come abbiamo appena visto hanno lo scopo di raggiungere degli obiettivi strategici che soddisfino le aspettative di stakeholder diversi queste aspettative di solito non formalizzate cioè le aspettative a volte non sono neanche conosciute sono diverse perché ci sono quelle dei fornitori quelle dei committenti quelle dei finanziatori sono soggettive dipendono dalle persone così come gli stessi requisiti che a noi piacerebbe fossero oggettivi tanto oggettivi non sono perché sono una mediazione di aspettative diverse e infatti purtroppo in molti casi sono anche in parte interpretabili allora i criteri di successo del progetto sono quindi in particolare nei casi complessi quello di soddisfare sia le aspettative degli stakeholder e se riusciamo a farlo naturalmente siamo efficaci che i requisiti di progetto e se riusciamo a farlo siamo efficienti c'è un'area critica che è quella quando vengono le aspettative vengono tradotte in requisiti quest'area critica se non facciamo niente si amplifica e ce la prendiamo tutta quanta nel momento in cui dobbiamo consegnare le cose al cliente con dei risultati che diciamo il campo ci dice non essere buoni per niente in media solo in 70% dei progetti l'efficacia è quella attesa in media solo in poco più del 50% dei progetti l'efficienza è quella attesa questi sono dati del project management institute rilevati sul campo andiamoci un po' più profondamente quindi in particolare più del 30% dei progetti non soddisfa gli scopi originali per cui i progetti sono stati creati ok enorme ok più del 40% va in costo oltre il budget più del 50% va in ritardo più del 50% subisce uno scope creep cioè un aumento enorme diciamo dei requisiti strada facendo non ci si rende conto che il cliente ne voleva molto di più di quanto ci sembrava avesse contattualizzato così come il 30% è la perdita economica media dei progetti falliti il 15% dei progetti sono fallimenti dichiarati dichiarati da chi dei project manager stessi cioè quindi è possibile che se chiediamo la stessa se facciamo la stessa domanda ai clienti magari diciamo i risultati sono ancora peggiori quindi in media quasi un terzo dei progetti non soddisfacendo le aspettative non risulta efficace in media quasi la metà dei progetti non soddisfacendo i requisiti non risulta efficiente siamo champions under performers champions sono considerate quelle organizzazioni diciamo che riescono a soddisfare le aspettative diciamo dei clienti nell'ottanta per cento più dei casi e hanno anche una una corrispondente grado di efficienza negli Stati Uniti queste sono il sette per cento diciamo delle organizzazioni rilevate a fronte di un dodici per cento delle organizzazioni che viceversa sono under performance quindi che stanno sotto il 60 per cento di efficacia e di efficienza come potete diciamo vedere anche se lo facciamo molto velocemente le differenze sono enormi e ci portano a quella grande media diciamo di prima e questi naturalmente sono dati Stati Uniti che cosa potremmo dire noi beh sicuramente che il project management serve le organizzazioni mature nel project management hanno risultati di gran lunga migliore come vedete passiamo dall'88 per cento dei progetti completati in tempo al 24 per cento però parliamo degli Stati Uniti che ovviamente hanno un grado di maturità importante se volessimo non abbiamo dati del genere diciamo in Italia se volessimo fare una proiezione diciamo in Italia siamo a circa 4 project manager certificati su 10.000 abitanti negli Stati Uniti 20 volte cioè percentualmente 5 volte di più non ho dati ufficiali diciamo della Svizzera ma quello che mi risulta facendo qualche estepolazione è che siamo molto vicini ai dati italiani quindi che stiamo parlando di una maturità di un quinto diciamo di quella degli Stati Uniti con quindi un quinto dei champions e 5 volte tanto gli under performance ci ho detto vediamo che quanto sia importante in tutto questo la relazione degli stakeholder perché se chiediamo al project manager di executive quali sono i problemi che possono portare in successo parziale o totale dei progetti guarda un po' ci dicono ci mettono nei primi 5 posti tutte diciamo problematiche di relazione con gli stakeholder quindi abbiamo al primo posto il cambiamento nelle priorità dell'organizzazione che ci indica problemi con lo sponsor che è il top management il secondo posto cambiamento diciamo negli obiettivi di progetto al terzo posto requisiti inadeguati raccolte inadeguate dei requisiti al quarto posto addirittura diciamo c'è un un'adeguata visione diciamo degli obiettivi del progetto e al quinto posto diciamo sempre però all'intorno del 30% naturalmente erano possibili diciamo risposte multiple e quindi totale fa più di 100 problemi con tutti gli stakeholder allora il dato interessante è che quindi le tutte tutte le problematiche principali risultano essere delle problematiche di relazione con gli stakeholder legate all'efficacia e sono soprattutto nei gruppi dei processi di avvio esecuzione e chiusura perché gran parte diciamo di queste problematiche proprio partono nei problemi si generano addirittura già nei processi di avvio quindi non solo problematiche razionali legate all'efficienza che soprattutto viceversa appartengono ai gruppi dei processi di pianificazione e di controllo quindi il riscontriamo in sostanza che non basta insistere su pianificazione e controllo perché naturalmente è molto importante sapere cosa pianificare e che cosa andiamo a controllare bene allora progetto in relazioni con gli stakeholder che abbiamo visto essere così importanti i risultati di un progetto diciamo questo è un po' il mio slogan sono i risultati delle relazioni fra i stakeholder queste relazioni richiedono per essere gestite delle competenze specifiche ritenute di importanza crescente dalla comunità di project manager il project manager più dell'80% dei project manager questa relazione fatti pochi anni fa diciamo ritengono che i cosiddetti soft skill siano più importanti o molto più importanti di 5 di 5 anni fa mentre invece così come un'indagine fatta le sediabocconi ci dà ai primissimi posti diciamo sempre diciamo per il project manager l'attenzione agli soft skill perfetto quindi competenze specifiche però le relazioni con gli stakeholder apportano complessità e per affrontare la complessità dobbiamo essere ben consapevoli di che cosa abbiamo a che fare generano poi valore attraverso la condivisione e la cooperazione specialmente chiaramente fra i membri e il team di progetto ma anche se abbiamo la fortuna di averli con degli stakeholder diciamo cooperanti infine costituiscono fattori anche critico di successo perché la soddisfazione degli stakeholder si sviluppa dalla condivisione e dalla cooperazione oppure dal coinvolgimento diciamo detto engagement e fare gli stakeholder stessi inclusi clienti e investitori e allora veniamo a quella che è la catena del valore delle relazioni con gli stakeholder cominciamo dalle competenze ci sono tante definizioni di competenze io diciamo mi riferisco a quelle dello European Qualification Framework quindi stiamo parlando di conoscenze di abilità cioè di saper mettere in pratica diciamo le conoscenze di responsabilità e autonomia che naturalmente in parte derivano anche dalle esperienze attraverso la leadership teamwork e comunicazione che ci rendono fluidi diciamo tutti i processi il primo passo è la consapevolezza della situazione il secondo passo è la condivisione in particolare tra i membri del team il terzo passo è la cooperazione ed il coinvolgimento ed è questo che ci porta alla generazione di valore la cooperazione che ci porta alla generazione del valore però come vediamo ci sono dei passi precedenti da affrontare e se vogliamo individuare diciamo questi sono ovviamente i gruppi di processi e project management qualche riferimento temporale è fondamentale raggiungere la consapevolezza già nei processi di avvio perché se no rischiamo di sbagliare su quello che dobbiamo fare così come la cooperazione già nei processi pianificazione la prima quando ce ne riusciamo con la baseline dobbiamo essere già di avere le idee molto belle chiare a livello di dettaglio quindi i fattori abilitanti della cooperazione sono competenze consapevolezza e condivisione e quindi possiamo pensare di affrontare la complessità esogena che ci viene da fuori con la consapevolezza e invece abbattere la complessità endogena con la condivisione cioè per esempio tutto quel tempo perso diciamo quando ci confrontiamo chi fa questo io penso che lo facevi tu o viceversa e così via in modo da fare poi efficienza diciamo con la cooperazione vediamo qual è il processo partiamo dalla personal master lo sviluppo delle competenze richiede un percorso di evoluzione basato sulla padronanza personale personal master in inglese che diciamo per la quinta disciplina è la disciplina di chiedere approfondire continuamente la nostra visione personale focalizzare le nostre energie sviluppare pazienza osservare la realtà con obiettività quindi saper rispondere in sostanza alle domande che cos'è reale e cos'è veramente importante quindi la padronanza personale è alla base dell'autoconsapevolezza dell'autodisciplina che sono le competenze personali dell'intelligenza emotiva dell'agenza emotiva ovviamente di Goldman in cui competenze personali e sociali vengono messe diciamo a servizio della leadership quindi in particolare competenze personali come l'autoconsapevolezza sia questa emotiva o autovoluzione autostima alla gestione di sé dell'autodisciplina autocontrollo ad abitare ad attraverare iniziative ottimismo consapevolezza sociale empatia consapevolezza organizzativa e spirito di servizio e gestione delle relazioni quindi che riguarda finalmente diciamo anche la relazione con tutti gli altri quindi come potete vedere la self-awareness è alla base di tutte le altre e in tutto diciamo sono alla base sia del leadership che del teaming la leadership importo sempre una definizione piuttosto recente peraltro diciamo di Golma avere leadership significa influenzare le persone a entrare in azione e quindi portare a termine di lavoro grazie anche ad altre persone la leadership può essere distribuita in un'organizzazione la visione attuale come vedremo nella followership è di pensare a una leadership proprio distribuita è fondamentale però il discorso che è estremamente situazionale cioè Golma dice qualsiasi persona a seconda delle circostanze potrebbe diventare un leader quindi si possono avere doti innati più o meno pronunciate ma la leadership è un comportamento e non è un modo di essere quindi essendo un comportamento come tutti i comportamenti si può imparare e questo diciamo è una notizia positiva un altro un fenomeno più moderno è che la leadership naturalmente viene esercitata prevalentemente verso il team ma viene percepita da tutti gli stakeholder quindi bisogna sapere sia come influenzare che come essere influenti allora l'adozione di uno stile di leadership non è una conseguenza della personalità della persona ma il preciso risultato di una scelta strategica e quindi un project manager deve sapere padroneggiare diversi stili di leadership che sono il coercitivo l'autorevole l'affiliativo il democratico il battistrata è lo stile da coach lo stile coercitivo autoritario non è risonante utilizza principalmente le competenze iniziativa della guida dell'autocontrollo serve principalmente quando diciamo ci sono situazioni di crisi anche temporale si ha pochissimo tempo nelle fasi di start up di forte cambiamento però ovviamente l'impatto sul clima è negativo perché dire alla gente facciamo tutti così non è esattamente fantastico in termini di clima e tende a deprimere la motivazione tuttavia diciamo ci sono dei casi in cui c'è poca scelta in particolare quelli in cui non c'è tempo invece lo stile autorevole visionario è risonante e milita le persone diciamo verso una visione comune è generalmente efficace quando è necessario una visione chiara o una nuova visione lo è meno se diciamo stiamo con un team di persone magari più esperte di noi perché dicano vabbè di che ci stai a dire e ha un impatto comunque fortemente positivo sul clima lo stile affinativo utilizza principalmente le competenze delle empatie della gestione efficace delle relazioni è efficace per motivare il team in situazioni di forte di forte stress meno per incorporare qualità attenzione cioè lo stile affinativo è meno efficace per essere rigorosi diciamo e quindi correggere errori incorporare qualità o far crescere il team ma comunque un impatto positivo lo stile democratico ricerca il consenso quindi viene benissimo con team particolarmente esperti un po' un prezzo può essere diciamo quello di svolgere delle riunioni senza fine e ha comunque un impatto anche lui positivo sul clima lo stile battistrada quindi quello di darsi dei grandi obiettivi no utilizza le competenze dell'iniziativa della guida efficace ma funziona bene con team particolarmente competenti perché altrimenti quelli se ci sono dei membri del team che lo sono meno tendono a sentirsi immaginati no e quindi a rallentare comunque diciamo tende a richiedere delle prestazioni elevate e quindi può avere degli impatti negativi sul clima infine lo stile del coach come oggi si studia tantissimo lo stile del coach è volto a fare crescere le persone funziona benissimo a meglio termine se abbiamo poco tempo ahimè ci vuole qualcosa di più di più stringente anche che sconfini magari anche nell'autoritario però per far crescere le persone il coach è sicuramente lo stile migliore bene i risultati del progetto sono naturalmente influenzate dal comportamento organizzativo e da quello delle singole persone quindi normalmente definiamo teaming l'attività di lavorare insieme come un gruppo team building il processo di incoraggiare i membri di un team a lavorare bene insieme team work l'abilità di un gruppo di persone a lavorare bene insieme e gli aspetti teaming sono ovviamente fondamentali nel project management il discorso è sempre che un gruppo di persone tende a dare dei risultati diversi dalla somma dei risultati che i suoi componenti darebbero singolarmente questo vale in generale diciamo anche in tutte le organizzazioni siamo interessati le organizzazioni esistono neanche le organizzazioni di progetto proprio perché ci aspettiamo che il contributo che deriva dalle persone sia maggiore della somma dei singoli contributi e questo come è possibile tutto questo ovviamente con l'integrazione l'integrazione efficace efficiente dei contributi di tutti aspetti team building ai fini del team building è necessaria la consapevolezza che ogni team vive un suo percorso evolutivo caratterizzato da strada di sviluppo molto diversi da loro che sono forming storming norming performing e poi c'è anche l'aggiorning il forming si riferisce alla formazione nel senso di costituzione del gruppo di lavoro lo storming quando si litiga vedremo perché il norming quando ci si hanno le regole comune il performing finalmente quando si copia e poi diciamo cosa succede quando si finisce cominciamo dalle dinamiche di forming tutti i team hanno questo ciclo di vita tutti allora qui diciamo si forma il gruppo il team di progetto quindi sono eccitazione voglia di fare ottimismo e bisogna ovviamente si cerca di capire un po' meno insieme che cosa bisogna fare di solito è una fase piuttosto anche lamentosa perché l'organizzazione va messo qui non lo so perché eccetera eccetera quindi in generale diciamo il questo per portare per uscire da questo avvio diciamo ci vuole un approccio abbastanza autoritario dobbiamo rapidamente un fenomeno di stima reciproca le dinamiche di storming sono fondamentali le persone i membri del team competono anche ferocemente per ottenere considerazioni per cercare un loro ruolo nel progetto attenzione non vogliono essere i capi i grandi capi vogliono cercare il loro specifico ruolo e per fare questo si litiga quindi si è resistenti si condividono un sacco di dubbi a volte diciamo ci si preoccupa di lavorare troppo si possono stabilire dei gruppi di gruppetti qui è una fase estremamente delicata in cui probabilmente lo stile di coaching è lo stile più efficace perché in modo da cercare di enfatizzare la sensibilità di ogni membro del team se manca le loro differenze per cui tutti hanno una loro specificità una loro utilità una loro indispensabilità ovviamente fra virgolette e se finalmente riusciamo a uscire diciamo dalle dinamiche di storming passiamo a quella di norming in cui ci si danno delle regole comuni questo diciamo è un momento ovviamente importante per eliminare alla cooperazione efficace a tutti gli effetti che deve essere armonico e questo in cui lo stile democratico funziona bene perché diciamo il team si dà un po' le sue regole a cominciare anche da quelle se volete un po' più banali tipo per esempio quando quando ci vediamo e così via a questo punto finalmente siamo giunti al performing perché solo qui è che riusciamo a creare a creare valore e generalmente diciamo quindi le persone sono consapevoli sono sanno che cosa aspettarsi in un l'altro riescono a condividere anche le soddisfazioni e quindi qui lo stile preferibile è quello autorevole cioè lasciare prendere al team la maggior parte delle decisioni necessarie in termini di project management in momenti in cui ogni responsabile diciamo di work package un po' avanti con le sue gambe sa naturalmente anche lui fa parte dei processi di controllo comune infine anche se siamo già tutto sommato al di fuo del progetto quali sono le dinamiche di aggiorni quando il progetto viene completato e il team viene sciolto e quindi qui ci sono dei fenomeni a volte potenzialmente depressivi e una grande attenzione una grande attenzione il project manager deve sapere che in tempo utile normalmente diversi mesi prima le persone devono essere rassicurate sul loro eventuali futuri incarichi perché diciamo altrimenti il rischio è che si mettono tutti d'accordo e che non facciano mai finire il progetto quindi questo è il momento di gestire il distacco adottando preferibilmente uno stile di tipo affiliativo bene se rapportiamo il tutto ai gruppi di processi di project management vediamo che le problematiche di relazione del team devono essere risolte già nel gruppo dei processi pianificazione perché se no che baseline costruiamo se non abbiamo fatto per arrivare già una vbs condivisa dobbiamo avere passato la fase dei stormi la fase stormi quindi non c'è molto tempo per fare tutto questo non c'è molto tempo per risolvere i problemi infatti se ci fate caso molte volte i progetti più inefficienti sono quelli in cui non si esce mai dalla fase di storming cioè si continua ad andare avanti con un fattore iniziale certamente molto inefficace ancora aspettarsi le cose l'un l'altro senza avere neanche deciso chi fa che cosa in termini di work package o di altro bene adesso acceniamo alla project followership diciamo il mio amico collega Marco Sanpietro docente alla Bocconi di project management c'è scritto anche un bel libro un bel libro sopra in ogni progetto la leadership la motivazione orientamento al risultato sono ovviamente fondamentali ai fini del team work per raggiungere il successo di progetti elevata complessità che ovviamente sono quelli che oggi hanno il maggiore interesse sono tuttavia opportuni dei cambiamenti organizzativi caratterizzati da forte integrazione e reciprocità reciprocità cioè da una parte il project manager agevole le competenze specialistiche dei membri del team integrandone e gestendo i valorizzanti risultati allora è vero ci siamo sempre detti il project manager è universalmente applicabile il project manager non deve essere necessariamente un tecnico cosa invece indispensabile per i membri e i membri del team però è anche vero che nei contesti complessi ci deve capire qualcosa e come perché altrimenti il suo lavoro di integrazione rischia di essere meno efficace e anche diciamo il suo lavoro di valorizzazione per esempio anche in termini comunicativi di quello che fanno di quello che riescono a fare gli altri membri del team quindi da una parte il project manager deve essere un po' più tecnico diciamo di prima nei casi complessi dall'altra i membri del team devono essere un po' meno tecnici un po' più project manager cioè devono riuscire a agevolare le competenze manageriali e project manager contribuendo ciascuno proattivamente da avere proprio project follower quindi sia contribuendo alla leadership che al project management vero e proprio quindi in sostanza diciamo il project nei contesti di particolare comprensità è opportuno che il project manager sia un po' tecnico diciamo e che i membri del team siano un po' leader e o project manager quindi un concetto se vogliamo di leadership distribuita quindi in generale come definizione per project followership si intende la partecipazione proattiva a tutti gli aspetti del lavoro di progetto sia tecnici che materiali manageriali all'interno dell'orizzonte visibilità della persona e diciamo ha sei aspetti fondamentali uno è la visione globale che è un altro diciamo fenomeno ovviamente di consapevolezza uno è l'apertura saper ragionare senza pregiudizi chiaramente la professionalità la iniziativa la dettabilità alle varie situazioni e l'influenza questi diciamo sono i sei aspetti base bene accenniamo adesso alla stewardship alla stewardship accenniamo per quanto è possibile farlo diciamo perché la stewardship sarà sicuramente contenuta nella prossima PMBOK guide nella prossima settima edizione lo era lo era anche in quello che è stato l'exposure draft dello standard di project management dell'american national standard al quale diciamo ho avuto anche il privilegio di contribuire in particolare per la parte degli stakeholder ed è un concetto un po' compresso diciamo il principio primo principio guida della project delivery il principio guida assumono un'importanza diciamo straordinaria rispetto a quelli che erano anche i gruppi di processi è quello di essere uno steward dirigente rispettoso e premuroso anche qui non penso che molto facilmente troveremo una 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 traduzione steward significa amministratore però diciamo un amministratore con uno con un certo spirito di servizio ok qui c'è questo questo concetto di spirito di servizio per cui la steward shipping include dei doveri e responsabilità sia interna che estende l'organizzazione questo che ci darà anche un po' di collegamento con l'etica in particolare i doveri sono quelli di assicurare integrità cura naturalmente dei clienti ma anche delle cose lealtà rispondenza a quanto concordato che come vedremo è un principio etico e delle responsabilità in cui le responsabilità interne all'organizzazione riguardano sapere operare in allineamento con l'organizzazione stessa sapere trattare e coinvolgere con rispetto le persone controllare con diligenza le risorse finanziarie e materiali comprende che poter e responsabilità associati a ogni ruolo mentre quelle esterne riguardano gli impatti sull'ambiente e sull'utilizzo delle risorse e quindi naturalmente la sostenibilità e la gestione guarda un po' delle relazioni con gli stakeholder che è anche qui al suo carattere centrale facciamo un breve focus sull'etica i valori etici sono naturalmente centrali sia rispetto dei progetti che project management e corrispondono anche a comportamenti caratterizzati da responsabilità rispetto correttezza e onestà che sono i quattro principi base diciamo che la stessa comunità di project management riconosce come primari nell'etica ma il tutto nei confronti all'estercoder ma anche la società del suo complesso e dell'ambiente oltre che naturalmente costituire esempio riferimento e funzioni educative allora per essere molto pragmatici anche qui ci sono dei adempimenti etici ben precisi che possono essere materiali è un esempio tipico rispetto dei patti sottoscritti ok no cioè per la diciamo ottemperare con cura a quello che ci dice un contratto è sicuramente etico ma possono esserci di adempimenti anche immateriali che in genere sono quelli che si riferiscono per esempio alla difesa o al miglioramento della reputazione poi all'interno di tutti i gruppi di processi sono poi necessarie delle specifiche azioni di ispirazione etica relativi aspetti a promuovere o naturalmente da evitare e diciamo questo l'ho ripreso dal norma 11.648 su quelle che sono le caratteristiche che dovrebbe del project manager la figura professionale project manager si dovrebbe caratterizzare dal punto di vista etico diciamo in ogni occasione rispetto ai principi di integrità obiettività priorità interessi clienti riservatezza obbligo di dirigenza onestà conformità e professionalità trasparenza comunicazione gestione e gestione dei conflitti di interesse eventuali sostenibilità apprendimento continuo e comunicazione questi principi possono essere utilizzati come riferimento contrattuale o per verificare la completezza dei documenti delle varie associazioni facciamo una sintesi di quello che è la gestione efficace delle relazioni come abbiamo visto all'inizio i progetti con la loro criticità la gestione efficace delle relazioni richiede di solito una maggiore focalizzazione sui processi di avvia ed esecuzione il project manager moderno quindi ci concentriamo su questo oggi abbiamo di pianificazione controllo sappiamo praticamente tutto mentre invece abbiamo bisogno di un'analisi puntuale degli stakeholder di una approfondita analisi delle loro aspettative con eventuali risoluzioni di eventuali conflitti e tutto questo va fatto subito nei processi di avvio ma anche rafforzare i processi di esecuzione del controllo questo di solito si fa con indicatori appropriati o chi il performance indichetto il più noto è l'erando value ma ce ne sono vari altri che possono essere utilizzati ovviamente utilizzando una comunicazione efficace in cui sono essenziali anche i feedback la comunicazione non è solo informazione ci abbiamo forse insistito troppo diciamo su questo concetto della comunicazione sinonimo di informazione lo è ancora nella definizione di comunicazione per esempio la PMBOK Guide ma la comunicazione ha tutti gli effetti integratività poi e poi diciamo tutto ciò che riguarda in particolare il team e anche l'engagement con gli stakeholder esterni che siano disponibili a farlo quindi acquisizione delle competenze raggiungimento e mantenimento della consapevolezza la consapevolezza e me va mantenuta perché il mondo cambia la pratica e la condivisione lo sviluppo della compagazione del teamwork che sono necessari all'efficienza quindi una gestione efficace delle creazioni può risolvere le aree critiche supportare con successo il raggiungimento di tutti quelli che sono gli operativi sia strategici che operativi di progetto incrementando efficacia ed efficienza e risolvendo quelle che sono un po' le varie criticità perfetto quindi per approfondimenti diciamo su questo tema sulla centralità della persona sull'istare con dei progetti su come incrementare il valore e starsi successo nei progetti complessi vi permetto di ovviamente proporvi il mio libro questa è la versione in italiano una prospettiva degli stakeholder diciamo edizioni Franco Angeli definito un volume originale innovativo dall'editore ha una presentazione all'edizione italiana di Marco Sampieto dell'SDA Bocconi School of Management la prefazione David Peirce managing editor del project management world journal e per esempio la formazione di Pichelli ha fatto una bellissima recensione dicendo noi diciamo parliamo sempre di persone diamo dietro ogni progetto di imprese per scontato che di persone ci siano ma non sempre viceversa le nostre azioni sono congruenti in questo senso perfetto chiunque mi voglia diciamo contattare può naturalmente rivolgersi a me come preferisci via LinkedIn o su questa o su questa mail e con il che vi ringrazio grazie a tutte diciamo e a tutti per la vostra attenzione se diciamo ci sono ci sono delle domande sarò naturalmente ben lieto di rispondere grazie a tutti vediamo se ho colpito in chat ma non lo vedo va bene allora ringrazio tutte e tutti per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima grazie 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 a tutti